Finalmente riesco a girare questo video che volevo fare da un po' di tempo in effetti e praticamente per riassumere i vari post che ho scritto, che ho ripreso da varie fonti per quanto riguarda i metodi per abbassare il budget per una vacanza. Allora, il punto fondamentale riportato da tutte le varie fonti da cui ho preso informazioni è che come prima cosa bisogna decidere quanto si vuole spendere per la vacanza. Quindi il budget va sicuramente deciso prima, anche perché ovviamente viene molto più comodo poi ricercare tutto, dagli alberghi agli aerei, i treni, insomma mezzi di trasporto, eccetera. E poi come secondo punto viene sicuramente, cioè va ammesso il fatto che, allora sicuramente bisogna essere molto flessibili perché molto spesso partire un giorno prima o un giorno dopo può veramente cambiare tantissimo le cose. infatti se girate spesso sui siti di Ryanair, EasyJet, insomma diciamo nel compagnie low cost potete notare che nel calendario dove vi fa vedere le date, diciamo per i voli di andare e ritorno vedete insomma che ogni giorno ha il suo prezzo. Quindi sicuramente l'essere flessibili e l'aver parlato di appunto dei siti di queste compagnie aeree low cost, mi introduce quello che diciamo è il terzo punto, ma insomma diciamo è relativo perché alla fine sono tutte cose, tutti suggerimenti molto molto importanti. Quindi introduci il terzo punto nel senso che sicuramente se si è abituati a cercare offerte, alberghi, voli, tutte queste cose così, tutte queste cose qua, su internet è sicuramente molto molto meglio organizzare le proprie vacanze col metodo del fai da te, ovvero usare internet e spesso e volentieri, al contrario di quello che si dice che con i last minutes si risparmia di qua, di là, su e giù, molto spesso è meglio prenotare con molto tempo, molto anticipo perché sì, ok, è vero che i last minutes aiutano a risparmiare, però non è detto che compagnie, alberghi, tour operator poi facciano veramente sconti per alcune destinazioni, cioè nel senso magari li fanno però se partite da, per esempio come me, da Roma non è detto che li facciano con partenza da Roma, ma magari li fanno con partenza da Milano, quindi a quel punto dovreste andare a spendere i soldi per spostarvi da Roma a Milano, oppure magari il posto che voi volete visitare non rientra tra le offerte, quindi sì, volendo potete anche aspettare che escano offerte last minute e robe simili, però insomma dovete comunque appunto essere anche lì molto flessibili in quanto appunto magari siete fortunati e che non so, volete andare a Parigi, trovate l'offerta per andare da Roma a Parigi a pochi soldi, però magari con partenza due giorni prima rispetto a quello che pensavate voi quindi comunque bisogna stare sempre molto attenti con queste offerte perché per esempio appunto parlando di Parigi l'altro giorno sono passata davanti a un'agenzia qua vicino a casa mia c'era una bellissima offerta per Parigi, tre notti a Parigi a 100 euro però ovviamente era utilizzabile soltanto entro il 31 marzo quindi per esempio io che entro il 31 marzo appunto non potrei usufruirne quindi ovviamente non l'ho potuta comprare e aspetterò con la speranza di trovarne una uguale, un'offerta uguale, migliore non credo perché era un prezzo molto basso però nel frattempo continuerò a guardare i voli aerei sia di compagnie low cost sia diciamo delle compagnie un pochino più importanti e non si sa mai magari con molta fortuna pure lì potrei trovare un prezzo buono e a questo punto introdurrei un altro punto che potrebbe essere molto interessante per chi dice no io voglio assolutamente aspettare voglio usufruire di offerte last minute tutte queste cose così sconti eccetera eccetera a questo punto diciamo come giustamente suggerito nel post diciamo sì nell'articolo scritto dalla Feder Consumatori Trenitalia spesso dà la possibilità di effettuare dei viaggi con delle tariffe molto basse se prenotate o su internet o comunque con molto anticipo per esempio io sono andata l'altro giorno a prenotare a prenotarmi il treno per una gita a Firenze in giornata perché insomma volevo andare a vedere un paio di mostre insomma un pochino di cose e in effetti ho risparmiato un bel po' di soldini e quindi ovviamente ho prenotato a metà gennaio per partire a metà febbraio quindi comunque insomma con un mese in anticipo ho già trovato un bello sconto se avessi prenotato probabilmente un pochino cioè se avessi prenotato un pochino prima probabilmente avrei trovato anche uno sconto maggiore ogni tanto mi vado a riguardare gli appunti perché erano veramente tante tante cose da dire poi molto importante ritornando sempre al discorso delle compagnie low cost o diciamo comunque delle compagnie aeree in generale comparate tutto quello che viene compreso nel prezzo del biglietto perché ovviamente il prezzo che voi andrete a pagare sono comprese molte tasse per esempio quella sul carburante quella per i bagagli insomma tutte queste piccole tasse in più che poi una piccola tassa qua, una piccola tassa di là, una piccola tassa per quest'altra cosa ancora e alla fine il prezzo lievita in una maniera esorbitante quindi se non potete evitare di pagare queste tasse soprattutto per esempio quella per i bagagli cercate di fare le cose con molta cura per esempio se appunto non riuscite ad evitare di dover pagare la tassa sui bagagli cercate di farli con molta cura in modo tale da per esempio non dover pagare i chili di troppo se spedite il bagaglio perché per esempio forse con un esempio pratico si capisce meglio la EasyJet se voi necessitate di spedire un bagaglio perché magari state fuori per tanto tempo come ho fatto io quando sono andata a Londra che oggettivamente per stare fuori tre mesi e mezzo, quasi quattro al fine mi sono dovuta portare il bagaglio quello grande da Stiva quindi lo dovrò spedire appunto la EasyJet vi fa pagare una tassa per spedire il bagaglio che mi pare sia intorno ai 15-16 euro una cosa del genere e ovviamente quella è una tassa che non potete evitare perché ovviamente se partite per un mese o due mesi o più non vi potete portare il bagaglio a mano perché è oggettivamente troppo piccolo a quel punto siccome i bagagli da Stiva hanno un peso limite siccome i bagagli da Stiva hanno un peso limite cercate di farli con molta cura e non strafare perché considerate che ogni chilo in più per esempio per la EasyJet visto che ho fatto questo esempio dovrebbe costarvi intorno ai 10 euro, 12 euro più o meno insomma quindi già ne pagate 15 per portarvi il bagaglio se poi in più ne dovete pagare dovete pagare altri euro per i chili di troppo insomma non è il caso poi vediamo un po' poi possono essere molto utili i siti che vi paragonano non so per esempio Trivago ce ne sono tanti altri per esempio io tra le diciamo in queste fonti avevo trovato anche un altro che si chiama priceline.com questi siti vi permettono di effettuare una ricerca senza dover cambiare ogni volta sito appunto vi permettono di effettuare una ricerca per diciamo per trovare che vi permette per mettere a paragone i prezzi che ne sono degli aerei o insomma queste cose così in modo da vedere chi è che vi offre il il prezzo più basso poi ovviamente i suoi siti tipo booking.com che è quello che solitamente uso io per gli alberghi guardate che cosa è compreso nel prezzo per esempio se è compresa la colazione non so il wifi se proprio non potete stare senza internet tutte queste cose così perché ovviamente direi che sì ok se trovate un albergo a 4 stelle in pieno centro a Parigi e pagate non so 25 euro a persona andando per assurdo perché non non credo esistano offerte del genere poi magari mi sbaglio però poi magari non avete la colazione non avete sì e no i materassi del letto oggettivamente per quanto uno possa pagare poco alla fine non è che sia così tanto conveniente e poi sicuramente per esempio un'altra fonte che avevo trovato della mi pare che questo fosse sulla sul serio della l'allora di planet italia volendo ci sono tanti modi diciamo alternativi tra virgolette per poter risparmiare ad esempio potete optare per lo scambio di casa ovvero voi volete andare a Parigi ci sta un ragazzo o una ragazza di Parigi che vogliono venire a Roma Milano insomma dove abitate voi prendetevi scambiate la casa quindi comunque a quel punto andrete a risparmiare sul costo dell'alloggio e ovviamente come giustamente consigliano nell'articolo magari fate una lista degli oggetti che lasciate dentro casa fatela firmare anche a questa persona che alloggerà in casa vostra in modo tale insomma comunque da stare sicuri di qualsiasi cosa succeda poi per esempio un'altra cosa interessante potrebbe essere non lo so andare in campeggio che sicuramente costa un pochino di meno oppure potreste scegliere di anche se questa qui non è tanto alternativa come scelta ma potreste scegliere di partire in bassa stagione anziché in alta stagione quindi inizio luglio anziché a ferragosto perché è risaputo che partire a ferragosto veramente costa tantissimo e magari a fine inizio luglio costa un pochino di meno oppure magari andare a fare la settimana a marzo sicuramente vi costa di meno che andarsi da gennaio inizio febbraio perché sono proprio i periodi in cui ci vanno tutti oppure potreste decidere di andare a Londra o in qualsiasi altra città a Parigi insomma qualsiasi altra città e trovarvi un lavoro quindi appunto i modi per risparmiare ce ne sono tanti e quindi non soltanto sperare che ci sia una qualche offerta un qualche last minute un qualche pacchetto vacanze per dare via le ultime stanze rimaste basta appunto diciamo muoversi per tempo perché appunto per esempio tanto per farvi l'ennesimo esempio quando io andai in Spagna ormai due stati fa diciamo un anno e mezzo fa era l'estate del 2010 comunque ho prenotato tutto con circa un mese in anticipo più o meno quindi ovviamente poi cosa importante è se state cercando delle case per esempio in affitto cercate di contattare più persone possibili più affittuari possibili in modo tale che perché vige sempre la regola che più persone contattate più possibilità avete di ricevere una risposta quindi magari se si tratta di mandare 100 mail al giorno magari mandatene 90 non proprio tutto e 100 però considerate che meno ne mandate meno persone vi risponderanno appunto muovervi per tempo cercare più contatti possibili guarda ovviamente per esempio i siti che uso io permettono anche di dare dei giudizi su hotel sulle case su chi insomma sugli affittuari quindi insomma cercate pure di vedere sul sito se vi viene dato qualche feedback da parte di chi ha già usufruito di quei servizi in modo tale che si diciamo non correte il rischio che risparmiando prendiate anche una grossa sola perché poi magari arrivate lì e la casa non esiste perché purtroppo è anche vero che succede pure questo e niente spero di non avervi incasinato troppo per aver parlato un po' troppo alla rinfusa comunque vi lascio come al solito nel box informazioni il link al blog e in questo caso lascerò anche i link specifici ai vari post che ho scritto per quanto riguarda appunto come abbassare il budget per le vacanze senza andare a dormire sotto i ponti e niente quindi ci rivediamo nel prossimo video sperando che sia il più presto possibile sperando di non lasciar passare un altro mese e niente ciao a tutti